... trasportata e ballata al ritmo di musica da 128 bullatori, 128 portatori questo è il magnifico spettacolo che questa balla... in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Grazie del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, disponendo alla venerazione del popolo cristiano quest'immagine di San Paolino, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni fedele che hanno preparato che tra poco porteranno a spalla questo simbolo di San Paolino, amico dei Redi di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione verso il trono della tua vita. A maniera di capa a sinistra, vi? Apo! A maniera di capa a sinistra, vi? 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 Il peggio è mettere in tutto, 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 che non volendo ricorderò. Il pugnale non stava quando vende, la città non teme non estante. Tutti i giorni, 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 i giorni. Il pugnale non stava quando vende, i giorni, i giorni, i giorni, i giorni, i giorni, i giorni, i giorni. Arriba la città di Roma, la città dei cinti. Il patrimonio che sia identitario di un paese, di una comunità, debba essere riconosciuto in tutto il mondo. Nola è stata in grado di avere riconoscimento UNESCO per patrimonio immateriale. Noi ancora col mondo piccolo di Peppone e Don Camillo non ce l'abbiamo, ma è come se ce l'avessimo. Perché ormai...